Ciao a tutti, io sono Giannina e benvenuti sul mio canale. Oggi faremo un video in cui vi svelerò dei miei segreti, dei segreti della dieta Giannina, la dieta che sta facendo dimagrire non solo me ma anche altre persone. Sto seguendo tantissime ragazze, da quando hanno visto la mia trasformazione a gente impazzita, ho ricevuto un sacco di richieste, seguo tantissime ragazze, persino una ragazza vegan che comunque ha già perso due chili in una settimana. E vi volevo svegliare, sì vi voglio svegliare! Volevo svegliarvi qualche trucchetto di questa dieta Giannina. Per prima cosa, mi dispiace dirlo, ma bisogna eliminare lo zucchero, perché lo zucchero bianco è dannoso alla nostra salute in quanto troppo raffinato, in quanto porta alla ritenzione idrica, in quanto porta alla formazione della cellulite, in quanto porta all'aumento della glicemia, in quanto non è buono! Per questo io vi prego, prendete la busta di zucchero e buttatela via, sia che state a dieta, sia che non state a dieta. Un'altra cosa molto importante di cui vi voglio parlare è il fatto che Dieta Giannina non vuole essere una dieta solo dimagrante, vuole essere un'educazione alimentare, perché il mio mestiere è quello di educare le persone alla prevenzione delle malattie e a un'educazione alimentare sana. Quindi il mio approccio e il mio piano alimentare non è solo per quanto riguarda il dimagrimento, perché io non voglio che al momento in cui avete finito il vostro processo di dimagrimento, iniziate a mangiare normalmente, diciamo così, ingrassate. Quindi la mia vuole essere un'educazione alimentare, per questo nella Dieta Giannina si mangia di tutto. Io non mi sono mai privata di niente. Sono cinque mesi che mangio così. è una semplice dieta mediterranea, mediterranea, però riportata ai tempi moderni di oggi, con i cibi integrali, con l'avvocato, che magari prima la gente non ne sapeva, con tanti alimenti nuovi. E soprattutto, ragazzi, io vi voglio dire una cosa, stare a dieta non significa morire di fame e mangiare il petto di polo tutti i giorni. No! Significa mangiare di tutto e avere fantasia. Per questo, se andate sul mio blog Parmigiamo Insieme, vi lascerò nell'info box, lì trovate ricette che rientrano nelle calorie del pranzo o della cena, dolci, della colazione e così via, che sono fantasia. Non vi ho detto che le manine sono di Matteo che gioca alla play. Allora, vi dicevo, sul blog trovate tutte ricette divertenti, sembrano golosissime e piene di calorie, invece no, sono fatte e studiate da me in modo da dare il giusto approccio calorico per ogni pasto. Allora, torniamo ai segreti della mia dieta, della dieta Giannina. Prima di tutto non bisogna morire di fame, perché tante di voi, io le faccio la dieta personalizzata e poi durante la giornata mi mandano le foto e mi dicono cosa stanno mangiando. E tante di loro si mangiano mezzo pomodoro, un pomodoro e io rimango... Dico, ma scusa, ma perché così poco? Eh, ma sto a dieta. No! Tu non stai a dieta. A dieta deve stare la persona che ha qualche malattia. Tu non sei malata, quindi non devi privarti del cibo. Allora, puoi mettere 20 pomodori. Quanto te pare? Io, in questo piano alimentare, non faccio pesare le verdure. Le verdure possono essere mangiate in quantità industriali, quindi non c'è bisogno di pesare. Parliamo delle verdure, ok? Quindi non bisogna stare affamati, non bisogna morire di fame, non bisogna privarsi delle cose, bisogna mangiare di tutto, un po'. Deve essere comunque calcolato in base al tuo metabolismo, in base all'età. per questo io la prima settimana studio il metabolismo delle persone che seguo, perché così capisco se è più lento, se è più veloce, se è anche in base alle proprie abitudini e così via. Quindi non bisogna morire di fame. Come avevo detto, bisogna eliminare lo zucchero bianco senza, se state nel processo di dimagrimento, nemmeno lo zucchero di canna, perché comunque contiene un sacco di calorie. Ci sono altri fonti di dolcezza, che ne sono a stevia, agar-agar, comunque si trovano altri fonti dolci. Poi un'altra cosa molto importante è eliminare l'olio dalla cottura, perché l'olio nella cottura fa triplicare le calorie, sia del cibo che dell'olio. Quindi l'olio non fa male in sé, anzi ha dei grassi buoni per il nostro, sono grassi insaturi, grassi nobili, che comunque aiutano il nostro organismo, ma in quantità è ridotta, perché se aumenti troppo le quantità, le calorie aumentano e non ci aiutano nel processo del dimagrimento. Quindi bisogna usare l'olio solo nel... hai finito di cucinare con l'acqua, spezie, ci sono vari modi di cucinare, non per forza devi usare l'olio. Lo metti nel piatto, due cucchiaini e stai a posto. Un'altra cosa, diciamo che è la fonte di questo video, sono le calorie negative, alimenti a calorie negative. Cosa significa? Non significa che ci sono dei alimenti che non hanno calorie, tutto quanto ha calorie, ma ci sono dei alimenti che nel momento in cui vengono ingerite, il nostro corpo impiega meno energie delle calorie del cibo per essere digerite. Vi do un esempio, tipo se una mela ha 100 calorie, non so quanto c'è una mela, c'è 100, il mio corpo ci mette 10 calorie per eliminarla, capito? Quindi esistono dei alimenti, dei cibi che ingerite, masticate nel processo della digestione il nostro corpo per metabolizzarle. Non sprega tutta questa... cioè ci mette di meno, la elimina subito per farvi capire. E voi mi direte ok, allora io mangio solo quegli alimenti e dimagrisco. No, perché purtroppo questi tipi di alimenti sono solo verdure e frutta, alcune verdure e alcune frutta e quindi nel momento in cui voi fate una dieta di solo verdura e frutta, fate mancare al vostro organismo dei nutrienti importanti nel mantenimento della vita, come le proteine, i carboidrati. Anche i vegani mangiano tantissimi carboidrati, quindi prendono le proteine dai legumi, quindi non si privano di tutti questi alimenti. A proposito di vegani, ho comprato questo libro perché una mia... una ragazza che sto seguendo è vegana, ha perso già 2 kg, non mi sarebbe già detto eh? Ha perso già 2 kg e ho comprato questo libro per suggerirgli e per creare delle ricette più fantasiose per non... per non fare la fine di quelli che si annoia a fare una dieta sana e così via. Vi stavo parlando di alimenti a calorie negative, quindi questi alimenti sono molto importanti perché... aspettate me li sono scritti qua... hanno dei benefici molto importanti al nostro organismo. Prima di tutto ci saziano, quindi nel momento in cui avete tanta fame, fate una casserola piena con questo tipo di alimenti e vedrete che non avrete più fame. Avete dato alla mente il meccanismo della masticazione, anche il fatto visivo di vedere tante cose colorate e avete ingannato la fame nervosa. Quindi i benefici degli alimenti a calorie negative sono attivano il metabolismo, possono aiutare a tenere sotto controllo i livelli di zucchero perché è molto importante tenere sotto controllo la glicemia, aumentano i livelli di energia. Perché se voi ci fate caso, in tutte le diete dimagranti vi sentite fiacchi perché vi tolgono i carboidrati, i grassi, non vi fare mai mangiare un cacchio. Per questo la dieta gianina è stata elaborata e fatta a modo da prendere tutto grasso. Il nostro corpo ha bisogno come dell'acqua del grasso, perché tutte le cellule funzionano anche con il grasso. Parliamo di un grasso sano, come la frutta seca e così via. Migliorano la digestione e contribuiscono a mantenere pulito il colon. Sappiamo che in Italia tantissime persone hanno problemi con l'intestino, questo aiuta tantissimo. Aiutano a depurare il fegato, che non è poco. Combattono la ritenzione idrica e riducono il gonfiore. La cellulite maledetta dà fastidio a tutti. Se voi consumate questi alimenti vi aiuterà anche a eliminarla perché contengono anche tanta acqua. Per eliminare la cellulite dovete bere acqua, acqua liscia e non minerale, non frizzante, perché più ossigeno ha quell'acqua, più facilmente sarà eliminata la cellulite. Ridicono il livello di colesterone nel sangue, migliora la salute dei capelli, delle unghie e della pelle, che è la cosa fantastica. Aiutano a migliorare la concentrazione, quindi mangiare verdure ti aiuta anche a essere più sveglio. Alcuni alimenti sono particolarmente indicati per ridurre lo stress, l'ansia e la depressione. Non è da poco in questa società che è così frenetica e siamo sempre stressati, riuscire con l'alimentazione ad avere un approccio e una visione anche di te stesso migliore per non vivere sempre sotto stress. Adesso vi dico le alimenti, perché dice questa parla, 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 ma questi alimenti non ce li dice. Ce l'ho qui e ve li voglio dire tranquillamente. Sono gli asparagi, fagiolini verdi, bietola, cavoletti di Bruxelles, cavolo, carote, cavolfiore, sedano, ravanelli, cetrioli, cavolo cinese, porro, lattuga, cicoria, spinaci e pomodori. La frutta, mele, more, mirtili, pompelmi, limoni, lime e lamponi. Ci sono delle spezie e delle erbe come la cannella, chiodiga, roffano, peperoncini, coriandolo. Semi di lino, aglio, zenzero, cipola e prezzemolo. Questa è la lista degli alimenti a calorie negative che possiate usare durante la giornata, quando avete fame, senza preoccuparvi delle calorie. Quindi, questo è stato il video di oggi. Mi piacerebbe creare una rubrica in cui rispondo alle vostre domande una volta alla settimana, perché ricevo davvero tantissime domande per quanto riguarda Dieta Giannina. e magari se riesco a mettere tutto insieme in un video, così riesco a rispondere a più persone nello stesso momento. Magari lasciatemi nell'info box delle domande, dei vostri dubbi. Se volete essere seguiti da me in questo piano alimentare, perché davvero, raga, io vedo le ragazze che sto seguendo, che mi ringraziano tutti i giorni, mi dicono Gianni, è la prima volta che riesco a tenere una dieta senza pensare che sono a dieta, senza pesarmi il fatto che sono a dieta. Mangio tanto, mangio bene, mangio di tutto, non mi faccio mancare niente. E davvero grazie. Fino adesso ho fatto un sacco di diete e non riuscivo mai a portarla alla fine, perché era troppo noiosa. Invece, con le tue ricette, poi, raga, io tutti i giorni cerco, provo, tutti i giorni, io perdono ore a cercare, a fare, sperimento sempre nuove ricette e tutto quello che trovate sul mio blog sono ricette che potete mangiare a pranzo o a cena, dipende. Ecco, il bello della mia dieta è che non dovete preoccuparvi, oddio, non posso mangiare a pranzo, non posso mangiare la cena ai carboidrati. No, qua non funziona così. Se le vuoi mangiare a cena, le mangi a cena, se le vuoi mangiare a pranzo, le mangi a pranzo. Poi cambiare pranzo con la cena non è un problema e soprattutto potete mangiare a qualsiasi ora. Quindi, seguitemi su Instagram, parmigiamo insieme, like se vi è piaciuto. Non dimenticate di lasciare qualche domanda qui sotto e ci vediamo al prossimo video. E se vuoi essere seguito da me con un piano alimentare personalizzato e con il mio aiuto, mandami un'email a dietagianinaccio.gigamail.com E ne parliamo. Ciao!